Mettela in mezzo a voi, io l'ho messo qui, però io sono, guarda, ce l'hai, ce l'hai, ce l'ha fatto che è dentro, è dentro, ok, guarda, l'ufficio è qui, 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 è qui. E' qui, è qui, è qui, è qui. E' qui, è qui, è qui, è qui, è qui.